mi piaceva quel vestito azzurro comunque molto stavo nuda praticamente tu prometti bene prometti molto bene guenda se mai mi facessi guardare perché poi il problema è che io mi nascondo ma infatti brava guarda su questo c'è ragione domanda non ti valorizzi cioè secondo me tu puoi però tendi a nasconderlo cioè alla fine perché